Mi può dire qual è l'apporto di Edeca al progetto Mr. Fruitness? Per far conoscere meglio questi prodotti anche al consumatore abbiamo incentivato le degustazioni che facciamo nell'ambiente dei nostri marchi propri, i quali sono Rio Grande, Edeca Selection, Edeca Bio Wertcost e facciamo assaggiare sul punto di vendita ai consumatori la bontà dei prodotti. E quindi questo è un passaggio importante perché un denaro va utilizzato in forma attiva per pagare degustazioni, per far conoscere il prodotto definitivamente al consumatore. L'abbiamo programmato per primo per il kiwi dall'Emilia Romagna, per le pere abate, praticamente la zona madre della coltivazione della pere, una delle pere più buone a livello mondiale. Dopodiché, terminato questo, vorremmo ampliare una seconda tranche con la stone fruit, cioè pesche, nettarine, albicocche e così avanti continueremo a utilizzare i contributi, investirli proprio per avvicinare il prodotto, o meglio detto avvicinare il consumatore più al prodotto di questa provenienza Italia-Emilia Romagna.